Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale e Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, Viale Magna Grecia 189 Taranto, responsabile elettricista, totale ore 150, requisiti, diploma di scuola media inferiore o scuola dell'obbligo, maggiore età, almeno 18 anni, precedente esperienza in imprese del settore elettrico. Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale e Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, Viale Magna Grecia 189 Taranto.